Siamo se giugniamo e alluminiamo se si mangia. Ora cosa facciamo? Accettate le carne, un misto con origano, basilico, salsa pomodoro e pecorino se ci dà. Cominciamo a cocere il picco buffetto e un capo a carne. Semplicemente è un misto di carne di porco, di manzo e di vitello. Ora facciamo cocere l'altro lato, 10 minuti. Ora che è qualcosa è corto perché non lo usassero, poi magari non lo usate. Oridamo. Un po' finito. E facciamo cocere a fuoco basso, 6-7 minuti. Ora, lo scacotto. Mettiamo nel pecorino, se ce l'hanno. Mettiamo. Coperto, Zocio Pino, non ciò stiamo aspettando. Ora la cottura è finita, mettiamo il viattale, belle polpettine di carne mista, fettata, origano, basilico e pecorino siciliano e una bella salsa di pomodoro. Siamo siciliani a domenica se mangia, polpettina mista di carne con basilico e origano e pecorino siciliano. Buon prato!